bentrovati e bentornati in questo nuovo video cari follower oggi parliamo di fotografia e di una splendida sony z v1 subito dopo la sigla la mia camera frontale in questo momento è una lumix g9 mentre quella di sinistra è la z v1 la sony z v1 la macchina fotografica pensata principalmente per chi vuole avere un qualcosa di molto semplice smart pensata proprio per accenderla e registrare senza troppi sbattimenti insomma una macchina fotografica destinata agli youtuber o a chi vive facendo vlog o semplicemente al padre di famiglia che vuole avere una buona macchina fotografica che possa fare dei video di ottima di altissima qualità e delle foto niente male e sì perché questa piccolina dovete sapere che ha un sensore da 20 megapixel per chi è un amante voi sapete io non ho registrato nessun video non ho fatto nessuna video recensione di macchine fotografiche sony in passato questa è la mia prima sony o meglio la prima macchina sony che recensisco non ho provato rx 100 mark 7 ma ho avuto modo di provare per qualche giorno la mark 5 quindi so di cosa stiamo parlando stiamo parlando di una compatta prosumer esattamente questa v1 è una compatta prosumer pensata proprio per fare dei video di ottima qualità e delle foto niente male insomma questa piccolina piccola perché 10 centimetri e mezzo di larghezza 4,3 circa di profondità e 6 centimetri di altezza insomma ci sta comodamente anche nella tasca di un cappotto oppure in una valigetta in una borsa in uno zaino insomma la si può portare dietro senza troppi problemi e utilizzarla proprio nel momento in cui serve guardate la confezione la confezione è veramente piccolissima e vi fa capire che questa macchina è una macchina pensata proprio per i social nulla di particolarmente professionale non è una macchina mirrorless non è una macchina full frame ovviamente è una macchina che costa davvero tantissimo e la possono utilizzare soltanto le persone che hanno intenzione di fare youtube ma youtube di un certo livello chiaramente perché questa macchina oltre a costare davvero tantissimo ha delle funzioni smart molto interessanti che vedremo fra un attimo ma che vi anticipo adesso ecco questa è la sony zv1 qui alla mia sinistra in questo momento ho attivato l'effetto sfocatura non che questo effetto dia diciamo chissà quale ottimo eccellente effetto bokeh in questo momento in cui sto registrando in 4k 30 fotogrammi per secondo chiaramente questa macchina ha oltre a questo tipo di funzione di sfocatura anche un filtro nd integrato quindi questi filtri questo filtro neutral density non fa altro che aiutare il creatore di contenuti digitali ad avere più possibilità di post produzione poi in fase di montaggio del video cosa sto dicendo sto dicendo che sì è una macchina per chi non vuole troppi problemi per chi vuole accenderla e registrare oppure accenderla e scattare una fotografia ma è una macchina che ha delle funzioni anche un po più professionali rispetto a quello che ci si aspetta insomma una sorta di rx 100 mark 7 un po più pompata per non dire praticamente quasi la stessa parliamo sempre di una macchina da 800 euro su amazon si trova qualcosina di meno il prezzo si è veramente altissimo però sappiate che è una macchina fotografica pensata per durare davvero tantissimo e questo lo capiremo fra un attimo quando la andiamo a vedere un po più da vicino la funzione che però ci tengo tantissimo a farvi vedere perché è la rivoluzione di questa macchina fotografica presentata a maggio da sony tra aprile sì e maggio e il microfono integrato ha un microfono non da macchina fotografica normale o da reflex quindi un microfonino niente di che ma un microfono davvero eccezionale un microfono a condensatore al suo interno che servirà a fare vlog senza doversi portare questo lavalier dietro oppure senza dover fare troppa post produzione poi in fase di montaggio ma la cosa ancora più interessante è la funzione che molte persone cercavano su rx 100 mark 5 mark 6 e poi arrivata sulla mark 7 è la possibilità di collegare un microfono esterno e sì perché questa zv1 ha un ingresso jack da 3.5 mm quindi il mio microfonino lavalier che in questo momento è collegato via wireless alla mia g9 lo posso collegare anche alla zv1 senza troppi problemi utilizzando il jack da 3.5 mm anche se non ci sarà davvero la necessità perché per alcune circostanze il microfono che c'è integrato va più che bene e ve ne darò una prova questo è il microfono che state sentendo il road wireless go questa invece è la mia voce registrata dalla sony zv1 quindi il microfono integrato come potete sicuramente notare ascoltare in questo momento non c'è il filtro antivento anche se è fornito in dotazione da sony e sono in un ambiente che non è affatto insonorizzato quindi potete ascoltare l'audio così com'è così com'è all'interno della macchina fotografica come potete notare non è niente male eppure non sono affatto vicino a questa macchina fotografica ma la sony zv1 è tutto rose e fiori? no perché essendo uscita comunque da poco è una macchina fotografica che deve essere un po' più matura e mi riferisco al firmware il firmware è la versione 1.0 al momento attuale quindi a settembre 2020 sony ancora non ha fatto un aggiornamento di questa macchina fotografica che però ritengo davvero essenziale e opportuno perché questa macchina fotografica purtroppo ha delle imperfezioni a livello firmware vuol dire che è un pochino lenta in fase di accensione alcune volte non si spegne in maniera fulminea e queste sono le due cose diciamo che fanno più arrabbiare per una macchina fotografica da 800 euro ancora di più però c'è il fatto che l'applicazione ufficiale che consente di utilizzare via remoto quindi via bluetooth o via wireless la zv1 purtroppo non è perfettamente all'altezza di questa macchina fotografica infatti non si possono scaricare sempre le fotografie scattate dalla macchina fotografica ma solo le fotografie scattate attraverso l'applicazione da smartphone che sono poi ovviamente contenute sulla macchina fotografica piccole migliorie software che spero e credo in sony che comunque aggiornerà questa macchina fotografica detto ciò grandissima altra novità è la possibilità di avere finalmente su una macchina sony lo schermo completamente orientabile quindi lo si può girare verso chi sta parlando e la macchina fotografica ovviamente vi farà vedere la ripresa in tempo reale non è più un display che si deve ribaltare a pozzetto a 45 gradi o al massimo a 90 gradi non è quel tipo di display ma è un display che finalmente si può orientare in tutte le direzioni brava sony detto ciò io vorrei farvi vedere i contenuti che ha realizzato con la sony zv1 con una definizione di 4k a 30 fotogrammi per secondo purtroppo non ho realizzato tutto ciò che avrei voluto ma datemi un po' di tempo farò dei video molto molto più all'altezza di questa macchina fotografica fate però molto caso alla bellissima e stupenda stabilizzazione che ha questa sony zv1 che è veramente il suo punto forte Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ovviamente online ci sono dei video, dei tutorial anche di Sony su questo tipo di funzioni della macchina fotografica, ma quello che voglio farvi vedere io è questa intelligenza di questa ZV1. Guardate un po' se io vado a chiudere lo schermo qui, si chiude la macchina fotografica, si spegne la macchina fotografica. Altra grandissima funzione di questa macchina fotografica, o meglio accessorio, è questa slitta qui, che è un po' troppo dura, ma comunque si apre. Serve sia per mettere un microfono shotgun, un lavalier, un ricevitore insomma di un lavalier wireless, oppure semplicemente per mettere un flash compatibile con tutto. Questo è il gigante microfono della macchina fotografica, qui il gigante tasto di registrazione che quando si preme si attiva e attiva anche il led qui frontale rosso, che è veramente comodissimo. E' un grande spettacolo. Vedete qui, quando la macchina fotografica sta registrando, si attiva questo gigante led rosso, che è veramente comodissimo. Perché quando si fanno video, soprattutto per YouTube, spesso, sì, sembra da strano, ma ci si dimentica di premere il pulsante di registrazione. Perché si hanno così tante cose da dire a volte, che ci si dimentica di iniziare proprio la registrazione. Con questa macchina fotografica qui non succederà mai. Il menu della Sony ZV1 è in pieno stile Sony. Quindi un menu assolutamente completo, ricchissimo, anzi straricco di funzioni che non sto qui a delencarvi, perché ci vorrebbe veramente un video da 50 minuti solo per questo menu. Quello che voglio farvi vedere di molto interessante è la possibilità di creare il proprio menu, quindi con le varie funzioni rapide che andiamo spesso a richiamare, che vogliamo sotto dito per poterle richiamare velocemente. Io qui ho messo a parte il formato file in 4K a 30 fotogrammi per secondo, è possibile fare anche HD fino, udite udite, a 120 fotogrammi per secondo con ultra slow motion fino a 960 fps. Quindi questa macchina fotografica creerà delle clip piccoline per ultra slow motion. Steady shot è lo stabilizzatore. Si può settare la stabilizzazione su due livelli, attivo standard o disattivato. Con attivo si ha la massima stabilizzazione. E poi altra funzione interessantissima è la possibilità di avere diversi profili colore, che in questo caso è disattivata perché siamo in modalità automatica. Vi faccio vedere se vado in modalità automatica, ad esempio con priorità di diaframma, modalità video manuale, vado a selezionare il profilo colore. Il profilo colore in questo momento è il PP6, che vediamo se riesco a farvi vedere come combinazione di colore si dovrebbe vedere. PP6, PP5, PP4, 3, 2, 1 e PP Off sarebbe la modalità colore automatica di Sony, il profilo colore automatico di Sony. Andando avanti, 8, 9 e PP10, no, PP9 è quello un po' più scarico di colore, un po' più smorto, direi io, e il PP10 è molto interessante perché offre una gamma dinamica veramente interessante per poterla poi lavorare, per poter poi sistemare meglio il proprio video in fase di montaggio e post-produzione. Io utilizzo spesso il profilo colore PP6, che è quello un po' più affine alle mie esigenze, ai miei gusti, ma comunque ce n'è davvero per chiunque in questa macchina fotografica. Beh, cos'altro farvi vedere? Se non la micro batteria, che però ovviamente è una batteria compatibile anche con le altre Sony, quindi dalla RX100, se non erro, Mark III, vedete qui è molto piccola come batteria, questa è da 1240 mAh, ma ovviamente essendo molto piccola registra, offre un'autonomia di registrazione di circa 75-80 minuti in HD. Io l'ho già provata e ho già acquistato diverse altre batterie perché una sola non basta. Qui c'è la scheda SD, chiaramente, quindi l'alloggiamento per la scheda SD e nient'altro, non c'è più nulla qui sotto. Purtroppo questa è una posizione infelice perché nel momento in cui andate a montare questa macchina fotografica anche su un manfrottino, qui attraverso la vita in basso, per poter cambiare la batteria o la scheda SD bisogna per forza svitare tutto e aprire questo sportellino. Purtroppo è una cosa che a me non è piaciuta molto. Sul lato destro della macchina fotografica, spero si veda, sono tre gli scomparti. Qui abbiamo la funzione di cui parlavamo che è il connettore audio, quindi l'ingresso microfonico. Qui si collega tramite jack da 3.5 mm un qualsiasi microfono, uno shotgun, wireless, insomma ciò che volete. Qui invece nel secondo cassettino c'è la presa, purtroppo micro USB. Questa micro USB serve non soltanto per ricaricare la macchina fotografica ma vi serve anche per poterla collegare al computer oppure si può addirittura caricare la macchina fotografica utilizzando un power bank mentre lei sta lavorando, quindi registrando o scattando fotografie o realizzando un timelapse. Qui più in basso HDMI, mini HDMI che può sempre servire per qualsiasi cosa. Insomma questa è la Sony ZV1 con un'ottica T-Star ad f1.8 su 24 mm. Già a 26-27 mm la macchina fotografica setta un f2.8. Insomma niente male. L'abbiamo vista un po' più da vicino, abbiamo visto il menu, abbiamo visto la sua stabilizzazione e la messa a fuoco ma non abbiamo visto ancora una cosa che riguarda la messa a fuoco che è veramente fantastica. E vi faccio vedere subito. Guardate un po' queste cuffiette che sono le Jabra Elite 75T di cui ho fatto anche una bellissima video recensione. Guardate, sto cercando di mettere a fuoco sulle cuffiette, eccoci, sono riuscito con la mia Lumix G9 e l'ottica in questo momento che sto utilizzando ha un 14 mm ad f2.8. Vedete, sono riuscito a mettere a fuoco. Guardate adesso se faccio questa identica procedura sulla Sony ZV1. Mi avvicino alla Sony ZV1, ha messo a fuoco immediatamente, tolgo, mette a fuoco me stesso. Guardate se riavvicino queste cuffiette, Jabra Elite 75T, ecco, sono a fuoco sulle cuffiette. Mi allontano, sono ancora a fuoco sulle cuffiette, poi sposto le cuffiette e sono di nuovo a fuoco io. Questa è una funzionalità pensata principalmente per chi fa video di un certo tipo. Mi riferisco ad esempio a chi fa tutorial di make-up, semplici tutorial, video recensioni su YouTube. Ce ne stanno veramente a migliaia di persone molto, molto preparate. Secondo me Sony ha pensato a questa fascia di mercato. Prima di proporre una macchina fotografica del genere. Certo, rispetto ad una RX100 Mark VII, che costa ben 400 euro in più, forse anche 500, ha delle cose in più e poche cose in meno. Come ad esempio un'ottica 24-200, questa invece è un 24-70. Certo è che Sony avrebbe potuto fare un'ottica un po' più larga. avrei preferito un 20, un 18-70, ma anche un 14-70. Perché considerando che è una macchina fotografica pensata soprattutto per chi fa vlog, quindi serve stabilizzazione, ma serve anche un ottimo grandangolo. Quando si tiene la macchina fotografica vicina al proprio volto, vicina, oddio, si stende il braccio e si registra il proprio video. Ebbè, questi 24 mm a volte possono stare un po' strettini. Il prezzo chiaramente di questa Sony ZV1 è altino. Io onestamente avrei qualche dubbio se acquistare a questo prezzo questa macchina fotografica oppure una Sony Alpha con ottiche intercambiabili. Ma è un'altra fascia di mercato e sono delle persone diverse, quelle che vorrebbero cambiare ottica alla propria macchina fotografica. Per cui, sì, una macchina fotografica poco impegnativa, ma altamente performante. Detto ciò, io spero che questo video l'avete gradito. Chiaramente fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questa macchina fotografica, se per voi è la macchina perfetta per YouTube, oppure se preferite acquistare eventualmente altro, o se già avete provato questa Sony ZV1. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, lasciate un bel pollice in su se l'avete gradito o in giù se non l'avete gradito. Un commento per chiedermi tutto ciò che desiderate e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri video provenienti dal mondo della tecnologia e della fotografia. Noi ci rivediamo domenica prossima con un nuovo video qui sul canale dedicato alla tecnologia. Al prossimo video e buona domenica. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.